Buona giornata, è il momento della rubrica messi alla prova. Secondo gli scienziati dell'Università Bicocca per concedere la patente ci vorrebbero visite alla vista più precise di quelle che si fanno normalmente. Sentiamo Andrea Silla. Al volante di sera o di giorno, con gli occhiali o con le lenti, oppure senza se avete una buona vista. Eppure c'è una ricerca che dice che un italiano su tre ha problemi di vista non riscontrati nella classica visita a quella della patente. Siamo qui all'Università Bicocca e messi alla prova. Oggi si occupa proprio di quei problemi di vista non riscontrati, cercheremo di capire quali sono e come fare per evitarli. Siamo qui con tre ricercatori dell'Università. Allora Silvia Tavazzi, uno potrebbe ribatterle, ma alla visita era tutto ok, dunque i problemi di vista io non ce li ho. La visita prevederebbe cinque abilità visive da indagare, in realtà molto spesso se ne indagano molto meno, un paio. La nostra ricerca avrebbe dimostrato che bisogna indagare assolutamente anche le altre e ce ne sarebbero anche altre da prendere in considerazione. Silvio Maffioletti avete appunto fatto diversi test, insomma ce ne racconti qualcuno e quali problemi si possono riscontrare? Vari test per varie abilità, non c'è solo l'acutezza visiva ma ci sono sensibilità al contrasto, cioè come vedo quando piove o quando c'è la nebbia. C'è la visione binoculare, come collaborano i due occhi, ci sono test per i movimenti oculari, come lavoro nei miei occhi. E non avere queste abilità, abbiamo verificato, vuol dire non avere una coordinazione, non essere in grado di raccogliere una pallina se viene lanciata, cogliere una distanza se viene ad avvicinarsi. Quindi è importante verificare tutte le abilità visive. Insomma questo applicato naturalmente su un'auto e magari a velocità sostenuta, insomma capite che può creare dei problemi. Renato Pocaterra, quali consigli e come evitare questi problemi? Prima di tutto affidarsi ad un esperto, un esperto del settore che possa valutare realmente le proprie condizioni visive. Non fidarsi evidentemente all'esame della vista che spesso è purtroppo un aspetto burocratico. E soprattutto non paragonarsi mai, questo capita spessissimo, con un cugino, una zia o una nonna che vede peggio di noi, per cui la domanda classica è se guida lei posso guidare anch'io.